Giuseppe Cammarata è il responsabile di una raccolta che il Partito Democratico sta effettuando di solidarietà nei confronti dei nostri fratelli italiani che sono rimasti colpiti profondamente e tragicamente dal fenomeno sismico. Sì, il Partito Democratico di Gela e la segreteria in particolare sposano l'iniziativa del Partito Democratico nazionale e dei giovani democratici. È stato istituito un conto, cioè un IBAN nazionale a cui le persone possono dare un contributo economico se vogliono. È chiaro che l'IBAN è intestato dal Partito Democratico perché non si può donare direttamente ai comuni che hanno subito questa tragedia. Poi ovviamente i fondi che verranno raccolti andranno a questi comuni. In più, presso il circolo Gela Centro, nei prossimi giorni, attraverso la pagina Facebook del Partito Democratico Gela e anche attraverso i mezzi di informazione, daremo i giorni e gli orari in cui sarà possibile portare bene di prima necessità piatti e bicchieri di plastica, prodotti per l'igiene intima, insomma tutto quello che serve per le emergenze di oggi e anche per i prossimi giorni. Perché sappiamo che poi i terremoti hanno delle emergenze immediate, lasciano delle emergenze immediate e anche delle emergenze che poi purtroppo si dispiegano per i prossimi giorni. Quindi comunicheremo già, ho avuto dei contatti con dei cittadini, anziché ringrazio anticipatamente, che vogliono donare questi beni di prima necessità. Il Partito Democratico quindi sposa questa, diciamo, questa iniziativa perché comunque i partiti sono dei soggetti che non possono dare una mano anche per queste cose. Come vi organizzerete per il trasporto di questi beni di prima necessità? Allora, diciamo il trasporto dei beni di prima necessità avverrà attraverso le federazioni provinciali e regionali, che è in contatto con chi materialmente si occupa dei soccorsi, provvederà immediatamente a portare i beni raccolti delle popolazioni che ne hanno bisogno.